beh ragazzi io non me ne aspettavo che saremmo ritornati qui nel 2023 a fare dei video e sì siamo tornati direi su youtube e bensì può sembrare un po' strano fare un video non appena hai finito la scuola e ti ritrovi nel mondo del lavoro così buttato dentro di cattiveria però sì oggi è arrivato un cavo per il mio microfono che è da un bel po' che non andava e mi causava un po' di problemi di disturbo ma alla fine era il connettore del microfono che era rotto quindi ne ho comprato nuovo e funziona meraviglia spero che la mia voce si senta bene e però che anche la qualità di questo giochino fantastico che spero di poter velo portare perché a breve ti sarà una cosa fantastica perché per quanto su roblox non esista più qui forse abbiamo speranze di portarvi un po di nostalgia e non capisco come si fa è un simulatore di pesca ma sono entrato così alla veloce ma non mi fa pescare niente però vabbè questo è un video veloce anche perché voglio mostrarlo a vissura il gamer questo video perché deve fare anche lui la sua valutazione della qualità dell'audio purtroppo se c'è l'audio anche del gioco ci potevo un po valutare il rapporto audio esterno audio di sottofondo e l'audio della mia voce non è che abbia un microfono così lontano però spero che comunque si possa sentire bene se non si sente bene farò altre modifiche finché vi porterò in mente potrà breve quella cosa di cui vi ho parlato prima che c'è qualcosa che potrebbe portare un po di nostalgia a certi giocatori quindi se siete ancora miei iscritti spero spero che quello che vi porterò vi possa interessare altrimenti pazienza pazienza è un video un po veloce probabilmente non uscirà al massimo delle vostre aspettative però ragazzi è bello a volte poter riportare qualche video su youtube perché comunque ci ha passato un po di anni a volte a farli e col passare del tempo magari uno si dimentica però dai spero di riuscirevi a portare qualcosina su questo gioco si chiama brick hill e ci sarà un evento tra non molto e e spero di portarvelo sotto forma di miniserie che andrà a sostituire uno dei migliori momenti sul mio canale che ve lo dirò la cazza alle uova ma 2023 edizione 2023 quindi se siete interessati fatemelo sapere nei commenti e vedrò di prepararmi per far bene questa miniserie e ci vediamo grazie per aver visto questo video e sì da ex è tutto e ci vedremo in futuro chi lo sa fatemelo sapere nei commenti buon lunedì a tutti e domani è il 25 quindi oggi mi hanno fatto fare il ponte quindi non insultatemi per favore è già fortuna per me vabbè ciao